Un'agenda dinamica per il 2013 che aspira a raccogliere tutta la proposta culturale cittadina man mano che questa viene programmata. Uno strumento fluido per supportare gli operatori turistici a progettare l'offerta per la città, che diventerà il riferimento per chi attraversa Napoli da viaggiatore, ma anche per gli stessi cittadini. L'agenda è stata presentata questa mattina nella bellissima sala del capitolo del complesso di San Domenico Maggiore, promotore il comune di Napoli con l'assessora al turismo Antonella di Nocera, alla presenza di organizzatori culturali e di operatori del settore turistico e alberghiero. Uno strumento richiesto dagli operatori turistici che ha la volontà di mettere insieme in una connessione per noi importante per la città la cultura, gli operatori culturali che organizzano eventi e la funzione turistica, un'identità di Napoli che fonda sul patrimonio storico-artistico, ma che fonda anche sul talento, sulla creatività e quindi sull'azione e sulla capacità di creare iniziative ed eventi che sono dedicate sia ai cittadini che ai turisti di passaggio. La cultura, nelle sue più variegate espressioni, rappresenta stabilmente la miglior risorsa su cui Napoli può investire per attrarre turisti italiani e stranieri. Teatro, musica, letteratura, cinema, danza ed ogni altra voce della cultura in città verranno inclusi nel programma della agenda che sarà pubblicata in italiano, inglese, cinese e russo. Il turismo a Napoli, se noi lo guardiamo rispetto agli ultimi due o tre anni, è sicuramente migliorata nei numeri, purtroppo però è peggiorata nei prezzi. Il problema principale, l'ho detto, è la vivibilità della città. Il turismo, io sono convinto di questo, è fatto di vivibilità e di immagine. La responsabilità è un po' di tutto, innanzitutto dei cittadini. Oggi purtroppo noi napoletani non ci comportiamo da buoni cittadini, noi ci lamentiamo della spazzatura, ma la spazzatura chi la butta per le strade. Ho voluto organizzare questo incontro qui a San Domenico Maggiore, sito di eccellenza del nostro centro storico, un'insula straordinaria come tante altre che esistono nel centro storico, che va sempre più valorizzata e per la quale insieme in una cornice di grande sinergia occorre trovare gli strumenti per un'adozione della città e perché sia sempre più vissuta dai cittadini.